Capitolo undicesimo. Terza meditazione. I benefici di Dio. Preparazione. Mettiti alla presenza di Dio. Pregalo di ispirarti. Considerazioni. Considera i doni corporali che Dio ti ha dato. Il corpo, i mezzi per sostentarlo, la salute, le soddisfazioni legate a lui, gli amici e i beni materiali. Considera tutto ciò che ha dato a te e mettilo a confronto con ciò che hanno altre persone, che valgono più di te e che non hanno quello che hai tu. Gli uni sono di debole costituzione, altri malfermi di salute, difettosi nelle membra, altri sono oggetto di insulti, di disprezzo e di disonore, altri ancora oppressi dalla povertà. E Dio non ha voluto fosse così. Considera i doni dello spirito. Quanta gente c'è al mondo ebite, pazza, furiosa, mentecatta? Perché non sei anche tu di quelli? Dio ti ha favorito. Quanti altri hanno avuto scarsa possibilità di istruirsi o addirittura nessuna? Per te, invece, la provvidenza divina ha voluto un'educazione civile e onorata. Considera le grazie spirituali. Tu sei figlio della Chiesa, Filotea. Dio si è fatto conoscere a te fin dalla tua infanzia. Quante volte ti ha visitato con i sacramenti? E le ispirazioni? Le illuminazioni interiori? Le correzioni per richiamarti? E quante volte ti ha perdonato? E non ricordi quante volte ti ha liberato dalle occasioni in cui ti saresti perduta? E gli anni passati non sono stati forse un tempo prezioso che Dio ti ha offerto per camminare verso il bene della tua anima? Fermati a considerare anche dettagli e vedrai quanto è buono e generoso sia stato Dio con te. Affetti e propositi. Ammira la bontà di Dio. Dio è veramente buono nei miei confronti. O Signore, quanto è ricco di misericordia e grande in bontà il tuo cuore? Anima mia, canta in eterno le innumerevoli grazie di cui ti ha colmata. Pensa ora alla tua ingratitudine. Chi sono io, Signore, perché ti ricordi di me? Come è grande la mia indegnità. Ho calpestato i tuoi benefici, ho disonorato le tue grazie, ho abusato della tua somma bontà e l'ho disprezzata. Ho contrapposto la voragine della mia ingratitudine all'abisso della tua grazia e del tuo favore. Muoviti a riconoscenza. Orsù, cuor mio, basta con l'infedeltà, l'ingratitudine e la slealtà verso questo grande benefattore. Non avverrà più che la mia anima rifiuti di essere sottomessa a Dio, che ha operato in me tante meraviglie e mi ha colmato di tanti doni. Filotea, sii decisa e sottrai il tuo corpo alle volutà. Mettilo al servizio di Dio, che ha operato cose stupende in suo favore. Impegna seriamente la tua anima a conoscerlo a fondo, per renderlo suo, con quegli esercizi propri, ad ottenere questo risultato. Impiega con cura i mezzi che la Chiesa ti offre, per la salvezza tua e per amare Dio. Sì, sono decisa a fare regolarmente orazione, a ricevere i sacramenti, ad ascoltare la tua santa parola. Metterò in pratica le sue ispirazioni e i suoi consigli. Conclusioni. Ringrazia Dio che ti ha fatto conoscere i tuoi doveri e tutti i benefici da lui ricevuti. Offregli il tuo cuore con tutti i buoni propositi. Pregalo che ti renda forte per tradurre in atto i propositi per i meriti della morte di suo figlio. Chiedi l'intercessione della Vergine e dei Santi, Padre Nostro, eccetera. Intreccia il mazzetto spirituale. Capitolo dodicesimo. Quarta meditazione. Il peccato. Preparazione. Mettiti alla presenza di Dio. Pregalo di darti la sua ispirazione. Considerazioni. Pensa da quanto tempo hai incominciato a peccare e come da allora i peccati si siano moltiplicati in te. Li hai accresciuti ogni giorno, mettendoti contro Dio, contro te stessa, contro il prossimo, in opere, in parole, in desideri e in pensieri. Pensa alle tue cattive inclinazioni e a come le hai assecondate e soltanto meditando su questi due punti dovrai constatare come le tue colpe siano più numerose dei capelli che hai in testa o meglio ancora dei granelli di sabbia della spiaggia. Pensa poi in modo particolare al peccato di ingratitudine verso Dio, peccato comune e presente in tutti gli altri e che li rende più gravi. Guarda di quanti benefici Dio ti ha colmata e di tutti ne hai abusato contro il donatore e in modo hai disprezzato molte ispirazioni, hai lasciato cadere molti impulsi al bene. Ma quello che è ancor peggio, dopo che hai ricevuto i sacramenti tante volte, dove sono i frutti? Dove sono finiti gli ornamenti di cui ti aveva abbellita lo sposo? Tutto è stato sepolto nella tua cattiveria, ti sei preparata seriamente a riceverli. Pensa a quanto sei ingrata e irresponsabile, Dio ti insegue per salvarti e tu fuggi per perderti. Affetti e propositi Arrossisci alla tua miseria, mio Dio, dove troverò il coraggio di comparire davanti a te? Io non sono che un bubone purulento e una fogna di ingratitudine e di cattiveria. Sembra impossibile che io abbia potuto essere così sleale. Non ho saputo conservare integro uno solo dei miei sensi, una sola delle facoltà della mia anima, senza corromperla, violarla, insozzarla. Non ho trascorso un sol giorno della mia esistenza senza contaminarlo con affetti indecenti. E mi pare questo il modo di contraccambiare i benefici del Creatore e il sangue del Redentore. Chiedi perdono e gettati ai piedi del Signore, come un figlio al prodigo, come una maddalena, come una donna che ha contaminato il letto matrimoniale con ogni sorta di adulterio. Signore, pietà di questa peccatrice, sorgente viva di misericordia. Abbi pietà di questa misera peccatrice. Decidi di vivere meglio, Signore, con la Tua grazia. Non voglio mai più cedere al peccato. L'ho amato già troppo. Ora lo detesto e abbraccio Te. Padre di misericordia, voglio vivere e morire con Te. Per cancellare i peccati del passato, ne farò un'accusa coraggiosa e non tollererò che uno solo rimanga in me. Farò tutto il possibile per sradicare dal mio cuore le erbacce in modo particolare le più dannose. A tal fine seguirò con impegno i consigli che mi verranno dati e non ritorrerò mai di aver fatto abbastanza per riparare le colpe del passato. Conclusione. Ringrazia Dio che ti ha atteso pazientemente e ti ha dato questi buoni affetti. Offri il tuo cuore impegno. Pregalo che ti fortifichi. Capitolo tredicesimo. Quinta meditazione. La morte. Preparazione. Mettiti alla presenza di Dio. Chiedi l'aiuto della grazia. Immagina di essere gravemente ammalata sul letto di morte senza speranza di cavartela. Considerazioni. Pensa a quanto sia incerto il giorno della tua morte. Anima mia, un giorno tu uscirai da questo corpo. Quando? In inverno o in estate? In città o in campagna? Di giorno o di notte? All'improvviso o con preavviso? Sarà per malattia o per incidente? Avrai tempo di confessarti oppure no? Avrai vicino il tuo confessore e il tuo padre spirituale? Di tutto ciò non ne sai proprio nulla. L'unica cosa certa è che moriremo tutti e prima di quanto pensiamo. Pensa che in quel momento, per quello che riguarda te, il mondo finirà. Per te sarà proprio finita. Ai tuoi occhi tutto si capovolgerà. Sì, perché i piaceri, le vanità, le gioie del mondo, gli affetti inutili ti sembreranno fantasmi e nebbia. Ti accorgerai allora che sei stata sciocca ad offendere Dio per quelle insulsaggini e quelle chimere. Vedrai che quando abbiamo lasciato Dio, lo abbiamo fatto per un nulla. Per contro tanti dolci e desiderabili ti sembreranno la devozione e le opere buone. Ma perché non ho percorso quella via bella e piacevole? In quel momento i tuoi peccati, che ti sembravano peccatucci, li vedrai ingigantiti come montagne e la tua devozione ti sembrerà piccola piccola. Pensa agli addi senza fine e pieni di languore che la tua anima darà alle cose di questo basso mondo. Addio alle ricchezze, alle vanità, alle compagnie melense, ai piaceri, ai passatempi, agli amici e ai vicini, ai genitori, ai figli, al marito, alla moglie, per farla breve, a tutti e per chiudere al tuo corpo che dovrai abbandonare sangue, smunto, emaciato, schifoso e maledorante. Pensa alla fretta che avranno di prendere il tuo corpo e nasconderlo sotto terra. Ciò fatto la gente non penserà più o quasi a te, non se ne ricorderanno più, come del resto tu hai fatto per gli altri. Dio lo abbia in pace, si dirà e amen. Tu morte fai seriamente pensare, sei impietosa. Pensa che una volta uscita dal corpo l'anima prende il suo posto o a destra o a sinistra. Tu dove andrai? Che strada prenderai? Non dimenticare che sarà la stessa nella quale ti sei incamminata in questo mondo. Affetti e risoluzioni Prega Dio e gettati tra le sue braccia. Signore, in quel giorno terribile, accoglimi sotto la tua protezione, rendimi quel momento felice e favorevole, a costo di rendere tutti gli altri della mia vita tristi e segnati dalla sofferenza. Disprezza il mondo, giacché, o mondo, non mi hai dato di conoscere l'ora in cui dovrò lasciarti. Ho deciso di non legarmi a te. Amici miei, cari colleghi, permettetevi di volervi bene soltanto con un'amicizia santa che possa durare eternamente. infatti, perché dovrei contrarre con voi un legame che poi dovrà essere troncato? Voglio prepararmi a quell'ora e prendere le opportune precauzioni per compiere felicemente quel passo. Con tutte le mie facoltà voglio mettere ordine nella mia coscienza e porre fine a certe manchevolezze. Conclusione. Ringrazia Dio dei propositi che ti ha dato la forza di concepire. Offrili alla sua maestà. Pregalo spesso che ti conceda una morte beata per i meriti di quella del figlio. Chiedi l'aiuto della Vergine e dei Santi. Un pater e un'ave maria e componi un mazzetto di mirra. Capitolo quattordicesimo. Sesta meditazione. Il giudizio. Preparazione. Mettiti davanti a Dio. Pregalo di ispirarti. Considerazioni. Dopo il tempo segnato da Dio per la durata di questo mondo, preceduto da un gran numero di segni e prodigi spaventosi, tali da raggelare gli uomini per lo spavento e il terrore, verrà la fine. Scenderà dal cielo un diluvio di fuoco che brucerà e ridurrà in cenere tutta la faccia della terra, senza risparmiare nulla di quanto vediamo su di essa. Dopo questo diluvio di fiamme e di terrificanti fenomeni celesti, tutti gli uomini, non ancora risorti, riprenderanno il loro corpo dalla terra e alla voce dell'arcangelo si raduneranno nella valle di Giosafat. Ma con quale differenza? Gli uni splenderanno in un corpo glorioso, gli altri saranno orribili in un corpo ripugnante. Considera la maestà con la quale apparirà il giudice supremo, circondato dagli angeli e dei santi, preceduto dalla croce, segno di grazia per i buoni e di castigo per i cattivi, più splendente del sole. Quel giudice supremo con un ordine senza appello e che verrà subito eseguito, separerà i buoni dai cattivi, metterà i primi alla sua destra, gli altri alla sua sinistra, e sarà una separazione eterna, dopo la quale i due settori mai più si incontreranno. Operata la separazione e dischiuse le coscienze, apparirà con chiarezza la perversità dei cattivi e il loro disprezzo per il Dio. Dall'altra parte si vedrà la penitenza dei buoni e gli effetti prodotti in essi dalla grazia di Dio. Nulla rimarrà nascosto. Mio Dio, quale confusione per gli uni, quale consolazione per gli altri. Pensa all'ultima condanna dei cattivi. Andate, maledetti al fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi compagni. Pesa queste parole così gravi. Andate, dice, è la condanna all'abbandono eterno di quei disgraziati da parte di Dio. Quei miserabili saranno per sempre privati della contemplazione del suo volto. Li chiama maledetti, anima mia. Quale maledizione? Una maledizione totale, che include tutti i mali. Maledizione senza appello e che abbraccia tutta l'eternità. Eterna eternità dei supplizi, quanto devi essere terribile. Considera poi la sentenza per i buoni. Venite, dice il giudice, è la parola consolante di salvezza per mezzo dalla quale Dio ci attira a sé e ci pone nel mondo della sua bontà. Benedetti del Padre mio, oh cara benedizione che tutte le include. Prendete possesso del regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Quale grande grazia mio Dio, poiché quel regno non avrà mai fine. Affetti e propositi. Trema, anima mia, a questo pensiero. Mio Dio, chi può darmi sicurezza per quel giorno in cui le fondamenti del cielo tremeranno per lo spavento? Detesta i tuoi peccati, i soli che possono darti motivo di terrore in quel giorno spaventoso. Voglio ora giudicarmi da sola per non esserlo in quel giorno. Voglio esaminare la mia coscienza e condannarmi, accusarmi e correggermi perché in quel giorno non sia il giudice a condannarmi. Mi confesserò, accetterò i consigli opportuni, eccetera. Conclusione. Ringrazia Dio che ti ha dato modo di metterti al sicuro per quel giorno e ti ha concesso tempo per la penitenza. Offri il tuo cuore e fai una seria penitenza. Pregalo di farti la grazia di portarla a compimento come si deve. Un pater e un ave. Componi un mazzetto spirituale. Capitolo quindicesimo. Settima meditazione. L'inferno. Preparazione. Mettiti alla presenza di Dio. Umigliati e domanda la sua assistenza. Immagina una città tenebrosa, affogata in un'atmosfera di zolfo, infiammato e pece nauseante. In quello scenario immagina un brulichio di cittadini che non possono uscirne. Considerazioni. I dannati all'inferno sono come i prigionieri senza scampo in quella città disgraziata. I loro sensi e tutte le loro membra sono sottoposti a indicibili tormenti. Infatti hanno usato le loro membra con i loro sensi per peccare. Per questo nei loro sensi e nelle loro membra pagano la pena dovuta al peccato. Gli occhi per gli sguardi perversi e maliziosi soffriranno l'orribile vista dei diavoli e dell'inferno. Le orecchie che si sono compiaciute dei discorsi licenziosi udranno per l'eternità pianti, lamenti e grida di disperazione e così di seguito. Oltre a questi tormenti c'è poi quello che tutti li supera. Ed è la privazione e la perdita della vista di Dio, dalla quale sono esclusi per sempre. Se a Salonne trovava che la perdita della vista di suo padre Davide era più dura da sopportare dell'esilio, quale tormento sarà mai essere privati per sempre dalla vista del dolce e suave volto di Dio. Pensa soprattutto all'eternità di queste pene. Da sola rende l'inferno insopportabile. Se una pulce in un orecchio o l'alterazione di una febbriciatola rendono una breve notte così lunga e tormentosa. Pensa quanto deve essere spaventosa la notte dell'eternità con tanti tormenti. Da quell'eternità nascono la più nera disperazione, le bestemmie, una rabbia senza fine. Affetti e propositi Spaventa la tua anima con le parole di Isaia. Oh anima mia, come potrai vivere eternamente con quelle fiamme inestinguibili dentro a quel fuoco che divora? Perché vuoi abbandonare per sempre il tuo Dio? Riconosci di averlo meritato e molte volte. Ora voglio incamminarmi in senso contrario. Perché dovrei sprofondare in quell'abisso? Farò dunque ogni sforzo per evitare il peccato sulla causa possibile di quella morte eterna. Ringrazia, offri, prega. Capitolo sedicesimo, ottava meditazione, il paradiso. Considerazioni. Immagina una bella notte serena. Contempla il cielo costellato di miriade di stelle, diverse una dall'altra. Aggiungi a quella meraviglia la bellezza di una magnifica giornata, in cui lo splendore del sole non tolga la nitida vista delle stelle e della luna, e poi di pure tranquillamente che tutte quelle bellezze sono nulla a confronto del paradiso. È un luogo desiderabile e amabile come nessun altro, una città senza confronti. Pensa alla nobiltà, alla bellezza e alla moltitudine dei cittadini abitanti in quella città, felice. Milioni e milioni di angeli, di cherubini, di serafini, il gruppo degli apostoli, i martiri, i confessori, le vergini e le madri di famiglia sono innumerevoli. Infine, pensa al bene sommo di cui tutti insieme godono, la vista di Dio che li gratifica per l'eternità del suo sguardo pieno d'amore, travolgendo il loro cuore in un abisso di piacere. È un bene senza pari l'essere uniti al proprio principio. Sono simili ad uccelli spenserati, che volano e cantano eternamente nel cielo della divinità, che li colma di piaceri inesprimibili. Ciascuno, senza invidia, canta al suo meglio le lodi del Creatore. Sia tu benedetto per sempre, o dolce Creatore e Salvatore, perché sei buono e ci comunichi con tanta generosità alla tua gloria. Gli rimando, Dio benedici con una benedizione eterna i Suoi Santi. Siate benedetti per sempre, mie care creature, che per avermi servito con coraggio, mi loderete eternamente con amore. Affetti e propositi. Ammire e loda la Patria Celeste, come sei bella, Celeste Gerusalemme, e beati sono i tuoi abitanti. Rimprovera il tuo cuore per il poco coraggio dimostrato finora e per essersi tanto allontanato dal cammino verso quella dimora di gloria. Perché mi sono tanto allontanato dal mio sommo bene? Miserabile che sono, l'ho fatto soltanto per piacere insulsi e leggeri, abbandonando delizie mille volte migliori, come ho fatto disprezzare i beni tanto desiderabili per desideri così meschini, che non meritavano alcuna attenzione? Desidera con forza di giungere a quella beata dimora, mio buono e supremo Signore, perché hai voluto guidare di nuovo i miei passi sul cammino che porta a te. Ti prometto che mai più tornerò indietro. Camminiamo, cara anima mia, camminiamo verso quella pace infinita. Camminiamo verso quella terra benedetta a noi promessa. Che ci facciamo qui in Egitto? Mi terrò lontano da tutto ciò che potrebbe distogliarmi da questo cammino o ritardarlo. Farò invece tutto quello che mi può favorire nell'incamminarmi in esso. Ringrazia, offri, prega. Capitolo diciassettesimo. Nona meditazione. Elezione e scelta del paradiso. Preparazione. Mettiti alla presenza di Dio, umiliati davanti a Lui e pregalo che ti ispiri. Considerazioni. Immagina di essere in aperta campagna, sola con il tuo angelo, come il giovane Tobia sulla via di Rage. Immagina che l'angelo ti inviti alla contemplazione del paradiso, spalancato in alto, davanti a te. Tu vi scorgi tutte le cose belle sulle quali abbiamo già meditato. In basso poi ti fa vedere la voragine dell'inferno, anch'essa spalancata davanti a te, con tutti i tormenti che ti ho descritto quando ti ho guidato alla meditazione dell'inferno. Dopo aver immaginato questa doppia visione, mettiti in ginocchio davanti al tuo angelo. Pensa quanto sia vero che tu ti trovi tra il paradiso e l'inferno, come pure è vero che l'uno e l'altro sono spalancati per riceverti secondo la scelta che tu farai. Pensa che la scelta che farai dell'uno o dell'altro in questo mondo durerà eternamente nell'altro. Pensa che pur essendo entrambi spalancati per accoglierti secondo la tua scelta è la sensazione della giustizia di Dio o della sua misericordia. Tuttavia Dio desidera con un desiderio senza pari che tu scelga il paradiso e l'angelo ti fa pressione nello stesso senso e ti offre da parte di Dio mille grazie e mille aiuti per salire. Cristo Gesù dall'alto del cielo ti guarda con amore e ti invita con dolcezza. Vieni, anima diletta, a riposarti eternamente tra le braccia della mia bontà che ti ha preparato delizie immortali nel suo amore generoso per te. Contempla con gli occhi dell'anima la Vergine Santa che ti invita con amore di madre. Coraggio, figlia mia, non ignorare i desideri del mio Gesù e le preghiere che gli rivolgo per te perché voglio con lui la tua salvezza eterna. Dà uno sguardo ai santi che ti incoraggiano e un altro milione di animi che ti invita con dolcezza e vuole soltanto vederti un giorno unita a loro nella loda eterna di Dio e ti garantiscono che il cammino verso il cielo non è poi così difficile come vuol far credere il mondo. Coraggio, ti dicono, amica cara. Chi valuta bene il cammino della devozione per il quale siamo saliti scoprirà che siamo giunti a queste delizie attraverso altre delizie infinitamente più dolci di quelle del mondo. Scelta. O inferno, io ti detesto per sempre, detesto i tuoi supplizi, i tuoi tormenti, detesto la tua eternità di maledizione e di infelicità, soprattutto odio le tue eterne imprecazioni e bestemmie che scagli contro il mio Dio. Rivolgo il cuore e l'anima dalla tua parte, o beato paradiso, gloria eterna, felicità senza fine. Eleggo per sempre, irrevocabilmente, la mia dimora nelle tue belle case e nei tuoi santi e desiderabili tabernacoli. Mio Dio, benedico la tua misericordia ed accetto l'offerta che me ne fai. Gesù, Salvatore, accetto il tuo amore eterno. Avallo l'acquisto del posto che tu hai fatto per me, in quella beata Gerusalemme, solo per amarti e benedirti per sempre. Accetti i favori che la Vergine e i Santi ti offrono. Prometti loro di seguirli nello stesso cammino. Tendi la mano al tuo angelo perché ti guidi. Incoraggia la tua anima a questa scelta. Capitolo diciottesimo. Decima meditazione. L'elezione e la scelta della vita devota. Preparazione. Mettiti alla presenza di Dio. Abbassati davanti a Lui. Domanda il suo aiuto. Considerazioni. Immagina di nuovo di trovarti in aperta campagna, sola, con il tuo angelo. A sinistra c'è il diavolo, assiso su un grande trono, altissimo, con tanti diavoli vicino. Intorno un'immensa moltitudine di mondani, che lo riconoscono, padrone, signore, e gli rendono omaggio. Chi peccando in un modo, chi in un altro. Esamina il contegno di tutti i disgraziati cortigiani di Querreda Bominio. Alcuni sono furiosi per l'odio, l'invidia, la collera. Altri si uccidono tra loro. Altri smunti, tesi e ansiosi accumulano ricchezze. Altri poi sono presi dalla vanità, senza provare un solo piacere che non sia vuoto e sciocco. Altri ancora abbruttiti, smarriti, corrotti nelle loro passioni animalesche. Guarda come tutti sono senza pace, disordinati e senza ritegno. Guarda come si disprezza una vicenda. Al massimo trovi un'ipocrita parvenza d'amore. A destra c'è Gesù Cristo Crucifisso, che con un amore cordiale prega per quegli infelici dominati dal diavolo, perché si librano da quella tirannide e li chiama a sé. Intorno a lui vedi una grande moltitudine dei devoti con i loro angeli. Ammira la bellezza di questo regno della devozione. E' meraviglioso vedere la schiera delle vergini, uomini e donne, bianca più dei gigli, la schiera delle vedove, ispiranti mortificazioni e umiltà. Guarda la schiera degli sposi, che vivono insieme con grandi dolcezze e rispetto reciproco, segno di un grande amore. Guarda come quelle anime devote sanno unire la cura della casa terrena con quella del cielo, l'amore del marito con quello di Cristo. Volgi lo sguardo intorno e vedrai tutti con un contegno santo, mite, amabile, mentre ascoltano nostro Signore. Tutti vorrebbero poterlo mettere al centro del loro cuore. Si rallegrano, ma di una gioia serena, piena di amore e controllata. Si vogliono bene tra loro, ma di un amore bello e pulito. Coloro che sono afflitti tra quel popolo letto non si tormentano più di tanto e non perdono il contegno. Noterai gli occhi del Salvatore che li consola e tutti vogliono stargli vicino. Tu hai già abbandonato Satra con la sua disgraziata compagnia, lo hai fatto con i tuoi santi effetti. Tuttavia non sei ancora giunta presso il Re Gesù e non sei ancora unita alla felice e santa compagnia dei devoti, anzi sei sempre rimasta a mezza strada. La Vergine Santa con San Giuseppe, San Luigi, Santa Monica e centomila altri che si trovano nella schiera di coloro che sono vissuti nel mondo ti invitano e ti incoraggiano. Il Re crocifisso ti chiama per nome. Vieni, o amata, vieni perché io possa incoronarti. Scelta. O mondo, gente abominevole, non mi vedrai mai più dietro ai tuoi vessilli. Ho detto addio per sempre alle tue pazzie, alle tue vanità. Re dell'orgoglio e dell'infelicità, spirito d'inferno, io rinuncio a te e a tutte le tue invenzioni. Ti odio e con te tutte le tue opere. Mi converto a te, dolce Gesù, re della felicità e della gloria che non muore. Ti abbraccio con tutte le forze della mia anima. Ti adoro con tutto il cuore. Ti scelgo ora e per sempre, a mio re, e ti prometto fedeltà, senza pentimenti. Prometto obbedienza alle tue sante leggi. Voglio ascoltare i tuoi consigli. O Vergine santa, mia cara padrona, ti prendo per guida. Mi metto sotto la tua bandiera. Ti prometto un particolare rispetto e una riverenza tutta speciale. Mio santo angelo, presentami a quella santa assemblea. Non lasciarmi, finché non mi sia unita quella beata brigata, assieme alla quale dico e dirò sempre, a prova della scelta operata, viva Gesù, viva Gesù. Capitolo diciannovesimo. Come fare la confessione generale. Ecco dunque, cara Filotea, le meditazioni che fanno al caso nostro. Una volta che le hai profondamente meditate, in spirito di umiltà, va coraggiosamente a fare la tua confessione generale. Ti prego di non angosciarti per alcun motivo. Lo scorpione è velenoso quando ci punge, ma, ridotto in olio, è un efficace rimedio contro le sue punture. Il peccato è riprovevole quando lo commettiamo, ma una volta trasformato in confessione e penitenza, è pegno di onore e di salvezza. La contrizione e la confessione sono cose così belle e così profumate che cancellano la bruttezza e distruggono il lezzo del peccato. Simone, il lebroso, diceva che Maddalena era peccatrice, ma nostro Signore dice di no e parla soltanto del profumo che spande e del suo grande amore. Se noi siamo molto umili, o Filotea, il peccato ci darà un grande dispiacere, perché offende Dio. Ma l'accusa del nostro peccato diverrà dolce e piacevole, perché onora Dio. Quando diciamo al medico il male che ci tormenta, proviamo già un certo sollievo. Quando sarai davanti al padre spirituale, immagina di essere sul calvario, ai piedi di Gesù Cristo crocifisso, il cui sangue, grondando da tutte le parti, ti lava dalle iniquità. Infatti, anche se non si tratta fisicamente del sangue del Salvatore, è sempre il merito di quel sangue versato che continua a scorrere abbondantemente sui penitenti che si trovano attorno al confessionale. Apri bene il cuore per farne uscire peccati destinati alla confessione. A misura che usciranno, entrerà il merito prezioso della passione di Cristo, per riempirlo di benedizioni. Esponi tutto bene, con semplicità e naturalezza. Almeno per questa volta fa contenta la tua coscienza. Dopo, ascolta la correzione e i consigli del servitore di Dio, e di nel tuo cuore, parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Sì, Filotea, è Dio che tu ascolti, perché ha detto ai suoi rappresentanti, chi ascolta voi, ascolta me. Dopo, prendi in mano la promessa che ho scritto per te e che trovi nel capitolo seguente. Serve di conclusione al tuo atto di contrizione. Prima devi meditarla. Leggila con attenzione e con tutta la partecipazione che ti sarà possibile. Capitolo ventesimo. Promessa per imprimere nell'anima il proposito di servire Dio, a conclusione degli atti di penitenza. Io, sottoscritta, prostrata davanti a Dio e a tutta la corte celeste, dopo aver considerato l'immensa misericordia della divina bontà nei confronti di me, indegna e insignificante creatura, che egli ha tratto dal nulla, conservata, nutrita e liberata da tanti pericoli e colmata di tanti benefici, ma soprattutto dopo aver considerato la dolcezza e la clemenza superiore a quanto si può pensare, in virtù della quale tanto benignamente mi ha sopportata nelle mie iniquità, ispirandomi molto spesso con amore e invitandomi a correggermi, considerando che mi ha atteso tanto pazientemente perché facessi penitenza, fino all'età che oggi ho, e questo nonostante le mie ingratitudini, le slealtà e le infedeltà con le quali ho differito la conversione, disprezzando le sue grazie e per di più sfacciatamente offendendolo, dopo aver preso in considerazione anche il fatto che nel giorno del battesimo sono stata consacrata e donata a Dio per essere sua figlia e che, contrariamente alla promessa fatta allora in mio nome, ho molte volte agendo da disgraziata e in modo riprovevole, profanato e violato il mio spirito, usandolo contro la maestà divina, essendo ritornata finalmente in me stessa, prostratta con il cuore e con lo spirito davanti al trono della giustizia divina, riconosco, ammetto e confesso di meritare di essere accusata e convinta del crimine di lesa maestà divina, in quanto colpevole della morte e passione di Gesù Cristo, ucciso dai peccati da me commessi, infatti per loro causa è morto dopo aver sofferto i tormenti della croce, per questo riconosco di essere degna di venire condannata alla perdizione eterna, ma oso rivolgermi al trono dell'infinita misericordia del medesimo Dio, detesto con tutto il cuore e con tutte le forze dell'iniquità della mia vita passata, domando e impetro umilmente grazie e perdono e per questo ti chiedo una totale assoluzione dei miei crimini, in forza della morte e passione di quel medesimo Signore Redentore dell'anima mia. Fidando su quella quale unica speranza per mia salvezza, ripeto nuovamente rinnovo la promessa di fedeltà fatta in mio nome a Dio, in occasione del battesimo rinuncio al demonio, al mondo e alla carne, detesto le loro malefiche suggestioni, le vanità e i desideri insani per tutta la vita che mi resta e per l'eternità. Voglio convertirmi a Dio, buono e pietoso, desidero, propongo, scelgo e decido irrevocabilmente di servirlo e amarlo adesso e per l'eternità. A tal fine gli affido, gli dedico e gli consacro il mio spirito con tutte le facoltà, la mia anima con tutte le sue potenze, il mio cuore con tutti i suoi affetti, il mio corpo con tutti i suoi sensi, protesto di non voler più in alcun modo abusare di nessuna parte del mio essere contro la sua divina volontà e la sua maestà sovrana. A lei mi sacrifico e mi molo in spirito per essere per sempre nei suoi confronti una creatura leale, obbediente e fedele, senza più volermi ricredere o pentire. Ma se per suggestione del nemico o qualche umana infermità dovesse capitarmi di venire meno in qualche cosa a questa mia promessa e a questa consacrazione, fin d'ora protesto e mi propongo con l'aiuto della grazia dello Spirito Santo di rialzarmi immediatamente, appena ne avrò coscienza, di rivolgermi di nuovo alla misericordia divina, senza attendere un solo istante. Questa è la mia volontà, la mia intenzione e la mia decisione irremovibile, di cui ho piena coscienza, la confermo senza riserve e occezioni davanti a Dio e alla chiesa trionfante, alla chiesa militante di mia madre che riceve questa mia dichiarazione nella persona di colui che come ministro mi ascolta in questo atto. Ti piaccia o eterno Dio, onnipotente e buono, padre, figlio e Spirito Santo, confermare in me questo proposito e accettare e gradire il dono che ti faccio in questo momento con tutto il cuore dal profondo di me stessa, come mi hai dato ispirazione e volontà per offrirtelo, dammi anche grazie e forza per non mancare di parola. Oh Signore, Tu sei il mio Dio, il Dio del mio cuore, il Dio della mia anima, il Dio del mio spirito, come tale ti riconosco e ti adoro per tutta l'eternità. Viva Gesù! Capitolo ventunesimo. Conclusione della prima purificazione. Fatta la promessa, rimani molto attenta e apri bene il cuore per ascoltare con tutta l'anima le parole di assoluzione che il Salvatore della tua anima, assiso sul trono della misericordia, pronuncerà lassù in cielo, davanti agli angeli e ai santi, nello stesso istante in cui, in suo nome, il Sacerdote ti assolverà quaggiù in terra. La schiera dei beati gioisce per la tua felicità e canta il cantico spirituale di una gioia che non ha confronti. Tutti ti accolgono e abbracciano il tuo cuore che ha ritrovato la grazia e la santità. È un ottimo contratto, Filotea. Tu doni ora te stessa alla maestà di Dio e ottieni in cambio che egli si doni a te per l'eternità. Non ti resta più che prendere la penna e apporre la firma all'atto della tua promessa. Dopodiché ti recherai all'altare, così anche Dio firmerà e apporrà il suo sigillo a conferma della soluzione e ti prometterà il paradiso. Per mezzo del sacramento, anzi, sarà lui stesso sigillo di garanzia sul tuo cuore nuovo. Così la tua anima sarà libera dal peccato e da tutti gli affetti al peccato. Ma siccome questi affetti rispuntano facilmente nell'anima a causa della nostra infermità e della nostra concupiscenza, che può essere mortificata ma non eliminata, finché vivremo su questa terra, io ti darò dei consigli. Se li segui, ti terrai lontana dal peccato mortale e dai suoi affetti, così mai più il peccato avrà posto nel tuo cuore. Visto poi che gli stessi consigli sono utili anche per una purificazione più radicale, prima di darteli voglio spendere qualche parola per chiarirti che cosa intendo per purezza totale, che è quella alla quale desidero guidarti. Capitolo ventiduesimo. Bisogna liberarsi dall'affetto al peccato veniale. A misura che il giorno cresce, scopriamo meglio nello specchio le macchie e le impurità del nostro volto. Così, a misura che la luce interiore dello Spirito Santo illumina le nostre coscienze, distinguiamo con maggiore chiarezza i peccati, le tendenze e le imperfezioni che possono impedirci di raggiungere la vera devozione. La stessa luce che ci fa notare queste tare e questa zavorra ci anima al desiderio di mondarcene e di liberarcene. Scoprirai dunque, cara Filotea, che oltre al peccato mortale e agli affetti al peccato mortale di cui ti sei già liberata con gli esercizi sopraindicati, nell'anima tu conservi ancora molte tendenze e affetti ai peccati veniali. Non dico che scoprirai dei peccati veniali, ma degli affetti e delle tendenze ad essi. Ora sono due cose ben diverse. Non saremo mai liberi completamente dai peccati veniali, almeno per un lungo tempo, ma possiamo benissimo non avere affetto ai peccati veniali. Infatti è ben diverso dire una frottola una volta o due, in allegria, in cosa di poco importanza, dal trovare gusto a mentire ed essere incalliti in quel genere di mancanza. Dico che bisogna liberare la propria anima da tutti gli affetti ai peccati veniali, ossia non bisogna in alcun modo incoraggiare deliberatamente la volontà a rimanere nel peccato veniale. Sarebbe una debolezza troppo grande conservare consapevolmente nella nostra coscienza un proposito che dispiace a Dio, quale è la volontà di voler fare cosa lui non gradita. Il peccato veniale, per piccolo che sia, dispiace a Dio, anche se non in misura da volere per questo dannarci o perderci. Se il peccato veniale gli dispiace, la volontà e l'affetto ad esso sono un chiaro proposito di voler dispiacere alla maestà divina. E com'è possibile che un'anima, per bene, non soltanto voglia dispiacere a Dio, ma sia attaccata al desiderio di dispiacergli? Questi affetti, Filotea, sono direttamente contrari alla devozione, come gli affetti al peccato mortale lo sono alla carità, indeboliscono le forze dello spirito, impediscono le consolazioni divine, aprono la porta alle tentazioni. Se è vero che non uccidono l'anima, la rendono però gravemente inferma. Le mosche morenti, dice il saggio, rovinano e corrompono il pregio dell'unguento. Con ciò vuol dire che le mosche, le quali non si fermano che pochissimo sull'unguento e ne succhiano solo passando, rovinano solo quello che prendono e lasciano il resto intatto. Ma quando vi cadono dentro morte, gli tolgono il pregio e nessuno più lo vuole. Allo stesso modo i peccati veniali, che capitano in un'anima devota senza soffermarsi per molto tempo, non le recano un danno molto grave, ma se quei peccati rimangono nell'anima a causa dell'affetto che c'è in noi per essi, questi le fanno perdere senz'altro il pregio dell'unguento, ossia la santa devozione. I ragni non uccidono le api, ma ne contaminano e ne corrompono il miele e le ostacolano con le loro ragnatele, di modo che le api non possono più lavorare. Questo quando tessono ragnatele per fermarsi. Così il peccato veniale non uccide l'anima, ma corrompe la devozione e intralcia talmente le potenze dell'anima con le cattive abitudini e tendenze, che essa non riesce più ad attuare la prontezza della carità nella quale consiste la devozione. Questo avviene quando il peccato veniale alberga nella nostra coscienza per l'affetto che gli portiamo. Dire qualche bugia è cosa da nulla, come pure dire qualche parola fuori posto, superare un po' i giusti limiti nell'agire, negli sguardi, negli abiti, nelle battute, negli scherzi, nei balli, purché, appena presa coscienza di questi ragni spirituali, li respingiamo e li buttiamo fuori, come fanno le api con i ragni veri. Ma se permettiamo loro di fermarsi nei nostri cuori e per di più ci affezioniamo e trattenerli e moltiplicarli, presto troveremo che il nostro miele è andato perduto e l'alveare della nostra coscienza ha contaminato e disfatto. Ma ripeto ancora una volta, che senso ha che un'anima generosa trovi gusto a dispiacere a Dio, si affezioni ad essergli sgradita e voglia quello che sa bene che Dio non vuole? Capitolo ventitresimo. Bisogna liberarsi dall'affetto alle cose inutili e pericolose. I giochi, i balli, i banchetti, le feste, gli spettacoli in sé non sono cose cattive, ma indifferenti e possono essere vissute in bene o in male. Sono tuttavia sempre pericolose e ancor più pericoloso è attaccarsi ad esse. Anche se è permesso giocare, danzare, anghindarsi, assistere a spettacoli onesti, fare banchetti, esserci attaccati, è contrario alla devozione e può nuocere e costituire pericolo. Il male non è farli, ma affezionarsi. È da insensati seminare nella terra del nostro cuore affetti così vuoti e insulsi. Occupano lo spazio destinato ai buoni sentimenti e impediscono che la linfa della nostra anima nutra buone tendenze. Gli antichi nazirei non solo si astenevano dal vino e da tutto ciò che poteva ubriacarli, ma anche dall'uva, sia matura che acerba, non perché l'uva, magari acerba, ubriachi, ma perché c'era pericolo che mangiando uva acerba, venisse la voglia di mangiarne di matura e mangiandone poi di matura nascesse il desiderio di assaggiare il mosto e bere il vino. Non dico che non dobbiamo fare uso di queste cose pericolose, ma insisto che non dobbiamo impegnarvi l'affetto se non vogliamo rovinare la devozione. I cervi che hanno messo su troppo grasso si ritirano in disparte e si nascondono nei cespugli, sapendo che, se per caso dovessero essere attaccati, il grasso non permetterebbe loro di correre agilmente. Il cuore dell'uomo, quando si carica di affetti inutili, superflui o pericolosi, non riesce più a correre con prontezza, agilità e facilità dietro al suo Dio, che è il centro della devozione. Ai bambini piacciono farfalle e le inseguono, nessuno trova da ridire perché sono bambini, ma vedere uomini maturi attaccarsi a simili cose e correre dietro a tali bagatelle sarebbe davvero uno spettacolo non solo ridicolo, ma penoso. Lo stesso si deve dire di quelle cose che ho detto sopra, perché non soltanto sono inutili, ma inseguendole rischiamo di diventare degli originali e dei disordinati. Ecco perché, cara Filotea, ti dico che bisogna liberarsi da quegli affetti e ti ripeto che, se anche le relative azioni non sono sempre contrarie alla devozione, di sicuro gli affetti a tali azioni le recano sempre danno. Capitolo ventiquattresimo. Occorre liberarsi dalle cattive inclinazioni. Ci sono poi in noi altre tendenze naturali, le quali, visto che non hanno origine dai nostri peccati personali e non sono nemmeno veri e propri peccati, né mortali né veniali, noi le chiamiamo imperfezioni e i loro atti difetti o mancanze. San Paola, per esempio, stando al racconto di San Girolamo, era fortemente portata alla tristezza e ai rimpianti, tanto che in occasione della morte dei figli e del marito corse il pericolo di morire di dolore. Quella era un'imperfezione, non un peccato, già che era contro il suo gusto e la sua volontà. Alcuni sono per natura loro di spirito leggero, altri burberi, altri ancora incapaci di ascoltare. Alcuni sono portati ad ingignarsi di tutto, altri a montare in collera, altri ad innamorarsi. Se guardiamo bene, troviamo pochissima gente che non abbia qualche imperfezione. Ora, benché siano spontanee e naturali, si riesce, con cura e attenzione, a correggerle o almeno a temperarle e qualche volta addirittura anche a correggerle e ad eliminarle totalmente. Filotea, io ti dico allora che devi farlo. Se si è trovato il modo di trasformare le mandorle amare in mandorle dolci, semplicemente facendo un'incisione alla base per farne uscire il succo, perché dovrebbe essere impossibile far uscire da noi le tendenze perverse per diventare migliori? Non c'è temperamento al mondo che, per buono che sia, non possa essere reso cattivo dalle cattive abitudini. Al contrario, non esiste temperamento così perverso che, con la grazia di Dio in primo luogo e poi con lo sforzo e l'impegno, non possa essere corretto e migliorato. Per questo ora ti darò dei consigli e ti proporrò esercizi attraverso i quali potrai liberare la tua anima dagli affetti pericolosi, dalle imperfezioni e da tutti gli affetti ai peccati veniali. In tal modo renderai sempre più forte la tua coscienza contro il peccato mortale. Dio faccia la grazia di praticarli bene. Grazie a tutti.